Ben trovati a Notizie di Prato Tg, attività a ritmo ridotto anche oggi a Palazzo di Giustizia di Prato alle prese con l'emergenza caldo a causa dell'impianto di condizionamento KO e della particolare struttura dell'immobile che ha trasformato in un vero e proprio forno soprattutto i locali al terzo piano dove sono ospitati gli uffici della Procura come vi abbiamo raccontato ieri. Anche oggi era valida la disposizione del Procuratore Nicolosi e del Presidente Gratteri indirizzata a tutti i dipendenti e magistrati per allontanarli dal posto di lavoro e intanto la questione è approdata in Parlamento grazie all'Onorevole Pratese del Gruppo Misto Giorgio Silli che stamani ha depositato un'interrogazione al Ministro della Giustizia. Proseguiamo con il telegiornale con una lunga pagina di economia ma non di economia buona economia cattiva, attività che non rispettano le leggi, la prima è in via Cava ha continuato a lavorare nonostante gli fosse stata revocata l'autorizzazione ambientale stiamo parlando di una stamperia e stamani i controlli hanno fatto scattare il sequestro e l'arresto del titolare. Sentiamo. Continuava a lavorare impiegando tra l'altro clandestini e inquinando l'ambiente nonostante la Regione avesse revocato l'autorizzazione per precedenti violazioni un quadro troppo compromesso per non far scattare il sequestro preventivo dell'azienda Multistampa SRL in via Cava a San Giusto e l'arresto del titolare, un cinese di 35 anni. La scoperta è stata fatta oggi in occasione di un controllo interforze coordinato dalla Questura a cui hanno partecipato Polizia Municipale, Carabinieri, Spettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco e Arpat. I titolari hanno rotto i sigilli apposti da Arpat sul sistema di abbattimento dei fumi ad umido a servizio della Ramosa e delle due linee di stampa che non risultava in funzione per risparmiare sui costi aziendali significa che da questa azienda sono usciti fumi nocivi e maleodoranti proprio come segnalato dai cittadini che abitano e lavorano nelle vicinanze. Oltre a operare senza autorizzazione, Multistampa impiegava 18 lavoratori cinesi a nero di cui 13 clandestini. Violazioni di legge sono state riscontrate anche sulla gestione dei rifiuti aziendali con depositi incontrollati anche di materiale pericoloso nel piazzale di pertinenza e nella resede posteriore del capannone. Oltre al titolare è finito dietro le sbarre anche un operaio perché è destinatario di una misura cautelare in carcere e disposto dal Tribunale di Verona. La chiusura della Multistampa arriva dopo anni di controlli continui interventi e segnalazioni con un lungo lavoro di indagine e collaborazione interforze. Appena si riscontra qualcosa che va contro le emissioni nell'aria o nella falda acquifera, insomma comunque va da questioni di inquinamento noi chiudiamo, sequestriamo i macchinari, facciamo tutto quello che c'è da fare perché su queste robe non si scherza. Non va meglio a Viaccia nella zona ovest di Prato dove a disturbare residenti e commercianti c'è Arte Stampa un'altra azienda a conduzione cinese in questo caso però i cittadini hanno avuto ragione perché Arpat ha confermato che il cattivo odore viene proprio da qui e ci sono state una serie di violazioni che faranno scattare la richiesta di revoca dell'autorizzazione Quelle dei cittadini di Viaccia non sono paturnie il cattivo odore c'è e dipende da Arte Stampa a causa di una lunga serie di violazioni accertate che hanno fatto scattare la richiesta di sospensione dell'autorizzazione ambientale lo afferma Arpat dopo una serie di controlli approfonditi e incrociati sulle emissioni della stamperia a conduzione cinese che si trova in mezzo al paese in via Pistoiese Le ispezioni sono state fatte ad aprile, maggio e giugno e hanno permesso di accertare ripetute numerose violazioni alle prescrizioni autorizzative Più volte sono state superate le temperature di esercizio degli impianti di asciugatura del tessuto stampato e questo, spiega Arpat, è in stretta relazione ai cattivi odori altre grave violazioni sono state attivate due ulteriori stampanti digitali senza alcuna comunicazione alle autorità competenti e messo in funzione in orari notturni dei macchinari che dovevano essere spenti alle 22 in queste condizioni Arpat ritiene non si possa andare avanti è la vittoria di un intero quartiere che ogni giorno, anche di notte, ha registrato prove e segnalato agli enti competenti ciò che di anomalo viene fatto in quella stamperia anomalo e pericoloso per la salute pubblica dato che siamo in mezzo all'abitato e non in una zona industriale ma i cittadini vogliono comunque dare un segnale di apertura all'azienda ricordandole che la convivenza è possibile ma attraverso il rispetto delle regole Desidereremmo che portassero avanti un discorso di miglioramento dei loro processi produttivi delle loro emissioni in modo tale da avere una convivenza, una convivenza con loro Ci sono voluti tre anni di battaglie per arrivare ad avere ragione i cittadini vogliono dare un senso a tutto questo chiedendo al sindaco di mettere insieme gli enti competenti per creare un iter di controllo chiaro e veloce su questa tipologia di lavorazione ad alto impatto ambientale Altra richiesta, in qualità di massima autorità a tutela della salute pubblica e sulla base delle violazioni accertate da Arpat il sindaco dovrebbe chiedere all'Asl di effettuare delle verifiche È un problema che è sentito in tutta la città e abbiamo intenzione di aprire un tavolo partecipativo su questo argomento che possa delineare un modo di operare per tutte quelle situazioni simili alla nostra Il primo cittadino risponde che il passaggio della documentazione all'Asl è automatico e che l'iter esiste già grazie ai protocolli interforze ma che sarà a sua cura vigilare sul sistema A proposito di aziende a conduzione cinese che non rispettano la legge soprattutto i diritti dei lavoratori oggi in prefettura c'è stato un incontro tra l'assessore alla cittadinanza Simone Mangani e il prefetto Rosalba Scialla si è fatto il punto sui controlli sono stati richiesti rinforzi degli organici è nata anche però un'idea da sviluppare quella di aggiornare il progetto lavoro sicuro ampliando la partecipazione agli ispettori del lavoro proprio per controllare contratti e diritti dei lavoratori sentiamo a tal proposito Simone Mangani Abbiamo condiviso l'idea di verificare se il patto per il lavoro sicuro che ormai dal 2013 ha garantito risultati attorno al tema dei controlli nelle imprese del territorio necessiti o meno di un aggiornamento In che senso? Può spiegare meglio questo punto? Vogliamo capire assieme ovviamente agli altri organi coinvolti se sia il caso di aumentare la composizione del nucleo dei controlli e estendere altre amministrazioni che attualmente non lo sono l'attività di controllo stesso ma di questo parleremo anche e soprattutto con il dottor Renzo Berti che è responsabile per quanto riguarda la regione toscana del progetto che incontreremo nei prossimi giorni anche in questo caso per un passaggio di consegne ci sembra opportuno e doveroso anche per un ringrazio evento Incidente mortale dopo le 9 di oggi sull'autostrada A1 nel Modenese vittima a un'ottantenne originaria di Prato secondo una prima ricostruzione della Polstrada la donna viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla nipote la macchina che viaggiava verso nord avrebbe sbandato poco dopo l'area di servizio Secchia toccando lo spartitraffico centrale per poi finire contro il guardrail laterale la pensionata sarebbe stata sbalzata dal veicolo trasportata all'ospedale di Baggiovara e morta al pronto soccorso i poliziotti dell'antidroga della squadra mobile Stamani hanno arrestato un marocchino di 34 anni regolare in Italia incensurato con l'accusa di detenzione e fine di spaccio di droga recuperati e sequestrati 110 grammi di cocaina e quasi 5.000 euro in contanti lo straniero si trova ora detenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa di comparire davanti al giudice i poliziotti da tempo tenevano sotto controllo lo straniero a insospettire gli agenti lo stile di vita dell'uomo abituale frequentatore di sale slot e il suo continuo andare e venire tra la casa di Galciana e il garage che si trovava dall'altra parte della città nella zona di via Azzarini Stamani è quindi scattato il blitz che ha portato all'arresto del pusher Lasciamo la cronaca e parliamo dello shopping serale che sta aspettando i pratesi nelle sere di luglio vediamo qual è il programma di My Prato Weeks Alessandra Grati Con l'arrivo di luglio torna My Prato Weeks lo shopping sotto le stelle che anche quest'anno prevede la doppia apertura dei negozi il martedì e il giovedì il primo appuntamento il 4 luglio, l'ultimo il 25 nel mezzo due serate dedicate alla notte dei saldi Si conferma anche nel 2019 il nuovo format doppia serata di apertura martedì e giovedì quest'anno il martedì nelle due settimane centrali del mese di luglio quindi con grande aspettativa da parte dei commercianti parte l'apertura serale, lo shopping serale e si riconferma anche un grande programma di iniziative Gli esercizi commerciali coinvolti sono quasi 200 tutti all'interno della cinta muraria durante le serate dedicate allo shopping le strade saranno chiuse e quindi sono previsti i divieti di sosta in numerose vie Le aperture serali di luglio sono ormai un appuntamento abituale e i nostri clienti ci chiedono le date sin dalla metà di giugno noi abbiamo buone aspettative perché anche quest'anno si conferma un programma di qualità Accanto alle iniziative commerciali, le vetrine dei negozi e i menù dei ristoranti saranno ispirate ai temi delle singole serate sono previsti anche momenti di intrattenimento Ogni sera ci sarà un tema che guiderà queste iniziative collaterali che cercheranno di alietare e rendere ancora più divertente lo shopping serale in centro E come lo scorso anno torna anche il concorso fotografico Prato Facci Sognare Ci saranno tre corner dove gli avventori delle serate del giovedì di luglio e martedì di luglio potranno farsi le foto che poi troveranno sulla pagina My Prato Week My Prato Week è sostenuta anche dall'amministrazione comunale che il 18 luglio organizzerà in contemporanea Prato in Rosa Con l'apertura dei negozi crediamo davvero che si possa riplicare i grandi numeri la grande attrazione in centro storia dello scorso anno speriamo di fare ancora meglio Andiamo a Montemurlo ora perché lunedì si va a spasso con l'oste tra 70 stand ancora grati Lunedì 1 luglio torna a spasso con l'oste l'iniziativa promossa dal comitato Noi Insieme con il comune di Montemurlo e la Proloco 70 stand nelle vie della frazione di Oste dove sarà possibile degustare vino e prodotti tipici ma anche partecipare ad iniziative di intrattenimento per grandi e piccini L'evento più importante nella frazione di Oste è tra i più importanti della Montemurlo estate grande soddisfazione perché siamo alla quindicesima edizione dove ci sono i commercianti che la fanno da padrona perché avremo una serata dove ci sarà verso gustare le specialità del luogo e non solo sicuramente c'è da dare un plauso all'associazione che ha organizzato il tutto insieme al comune e alla Proloco per quanto riguarda le norme sulla sicurezza Il sindaco ha firmato un'ordinanza che prevede il divieto dalle eventi di lunedì 1 giugno fino alle 2 di martedì 2 luglio di vendere ogni tipo di bevanda alcolico o analcolica in contenitori di vetro La metodologia è sempre la solida, quindi negozi aperti, stand di associazioni, di commercianti quindi abbiamo sempre tantissime persone, abbiamo 6 postazioni musica ogni anno e soprattutto tanta allegria L'unica cosa purtroppo è che abbiamo dovuto un po' modificare il discorso della degustazione dei vini perché a causa dell'enorme sicurezza il vetro non era bandito Durante la manifestazione ci saranno anche modifiche alla viabilità nelle strade di Oste E con questo è tutto, ci salutiamo Notizie di Prato Tg torna domani alla stessa ora Buona serata